Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta al cappuccino cremosa. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono caffè espresso ristretto, latte intero a temperatura ambiente, ricotta ben sgocciolata, zucchero semolato, uova, amido di mais, aroma di vaniglia e cacao amaro. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla, mettiamo lo zucchero, le uova e le facciamo montare per 10 minuti, 37 gradi, velocità 4, senza misurino. Togliamo la farfalla dalle lame, aggiungiamo la ricotta il latte e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Aggiungiamo il caffè, l'aroma di vaniglia e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Aggiungiamo l'amido di mais e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamolo in una teglia rivestita con carta da forno bagnata e strezzata. cuocere in forno per riscaldato statico a 170 gradi per 50-60 minuti circa. Trascorso il tempo spegnere il forno, aprire lo sportello e lasciare raffreddare completamente il dolce in questo modo. La torta è cotta, l'abbiamo spolverizzata con cacao amaro, decorato con panna montata, impiattiamola. Torta al cappuccino cremosa. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!